In mezzo alla posta, alla scuola elementare Poma di Garlasco, le maestre hanno trovato anche una busta con l'effigie della Presidenza della Repubblica. All'interno c'era una lettera scritta dal presidente Sergio Mattarella, che ha voluto rispondere personalmente a un messaggio che gli era stato inviato dagli alunni delle classi quarte. I bambini garlaschesi avevano scritto al Quirinale per invitare il presidente Mattarella al primo giorno del prossimo anno scolastico, ma soprattutto volevano chiedere l'autorizzazione ad eleggerlo nonno d'Italia, nonostante su questo punto le maestre non fossero proprio d'accordo. I bambini ci tenevano proprio di chiamarlo il nonno d'Italia. Noi maestri non eravamo d'accordo di questa cosa confidenziale, ma il presidente ha risposto in modo positivo, anzi che vuole essere chiamato il nonno d'Italia. Cari bambini, grazie per la vostra lettera e per l'invito, ha scritto il presidente Mattarella. La definizione di nonno d'Italia va benissimo, ho nipoti anche molto più grandi di voi. Vi faccio gli auguri più grandi e vi saluto con affetto. La conclusione migliore quindi per quella che era partita come un'attività didattica per insegnare agli alunni come scrivere lettere formali. La lettera fa parte del nostro programma d'italiano delle classi quarte, quindi affrontiamo vari tipi di test e abbiamo affrontato la lettera. Dalla lettera formale alla lettera informale e quindi abbiamo spiegato ai bambini che la lettera formale si scrive alle persone importanti e allora abbiamo chi più importante del presidente Mattarella e quindi abbiamo deciso insieme di scrivere una lettera al presidente Mattarella. I bambini delle quattro classi, ognuno l'ha scritta in modo individuale e poi l'abbiamo messo insieme e l'abbiamo spedita. L'arrivo della lettera ha portato molta gioia alle scuole di Garlasco, incredule maestre e genitori, felici ma non stupiti i bambini. Loro erano convinti che la risposta sarebbe arrivata. Loro erano fiduciosi, loro erano sicuri che il presidente avesse risposto, noi adulti un po' meno, ma loro erano sicuri e hanno avuto ragione. Quando ho detto loro della risposta erano proprio davvero felici, si sono sentiti facente parte della scuola e io voglio sperare anche della nostra bella Italia. Grazie.